ci avvaleremo del prezioso contributo dell'interprete Peter Sabo che dovrà destreggiarsi nel complicato groviglio della terminologia giuridica. Giovanni ha già menzionato Biagio Mannino, giornalista specializzato in politica internazionale e analista della comunicazione pubblica che tesserà le fila del dibattito di questa serata. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra attenzione e auguro a tutti buoni ascolti. Chiedo a Lucio di partire con il primo video. Le polemiche sia in ambito politico sia nel mondo giuridico non sono mai mancate sul ricorso ai dpcm da parte del governo Conte nella gestione dell'emergenza covid. Ma ora la Corte Costituzionale mette un punto fermo. Lo fa con le motivazioni della sentenza con la quale il 23 settembre scorso aveva dichiarato legittimo il decreto legge 19 del 2020 che prevedeva l'adozione mediante di pcm di misure urgenti di contenimento e gestione della pandemia. E il cuore della pronuncia firmata dal giudice Stefano Pettitti è che gli articoli 1, 2 e 4 del DL non hanno conferito al presidente del Consiglio dei Ministri né una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'articolo 78. Ma gli hanno attribuito unicamente il compito di dare esecuzioni alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati. A portare la questione davanti alla Corte era stato un giudice di pace di Frosinone chiamato a esprimersi sul ricorso di un cittadino contro la multa da 400 euro che gli era stata inflitta per essere uscito di casa durante il lockdown dell'aprile 2020 in violazione del divieto stabilito dal DL e poi dal DPCM. Buonasera, inizia in questo momento questo convegno che nasce fortemente da delle esigenze di portare chiarezza, di cercare di comprendere, di conoscere. Dire tutto quello che è successo è qualcosa di sostanzialmente illusorio, ma cercare comunque di incominciare a muoversi nella grande confusione post-2020. Lo sappiamo molto bene perché tutti quanti noi abbiamo vissuto questa situazione, non possiamo dimenticare proprio quel mese di gennaio nel 2020 quando tutto quanto incominciava e incominciava anche in Italia perché la cosiddetta pandemia, epidemia, il covid che all'inizio veniva chiamato più semplicemente coronavirus, ebbene ne sentivamo ne sentivamo l'eco da luoghi lontani, da quella Repubblica Popolare Cinese che consideravamo essere laggiù e in quanto laggiù mai qualcuno avrebbe potuto pensare che quelle decisioni che venivano prese poi potessero essere traslate con grande facilità nel nostro contesto. Ebbene da gennaio, dalla fine del mese di gennaio, tutto incominciava e non è assolutamente finito perché in ogni caso quella esperienza ha rappresentato per tutti noi quello che possiamo accettare o non accettare, ma è stato un trauma ed è stata anche, se vogliamo, una rivelazione, una presa di coscienza su tanti aspetti che poi alla fine ci riguardano. Il problema è che le epidemie, le pandemie sono sempre state presenti nella storia dell'umanità. Solamente in questa occasione c'è stato però qualche cosa di sostanzialmente straordinario perché a quella epidemia, a quella pandemia è subentrata una gestione che è stata travolgente a livello globale ma portando anche delle sostanze di differenze perché c'è chi ha adottato determinate linee e chi ne ha adottate altre. Però quello che è vero è che poi alla fine ci siamo trovati tutti quanti di fronte alla valutazione perché quello che era diventato dominante era sostanzialmente la paura. All'inizio la paura della malattia, ma quel lockdown per evitare la diffusione della malattia aveva colpito il cuore del sistema, ovvero quel mondo basato sullo scambio, sul consumo, sull'economia, sulla finanza. Bloccare tutto significava andare anche inevitabilmente in una crisi, in una crisi legata al mondo del lavoro. E da lì quella paura della malattia diventava la paura dell'incertezza, la paura di perdere la propria capacità dell'essere indipendente, la paura di perdere appunto la propria quotidianità. E poi è subentrato il vaccino che sotto certi punti di vista poteva essere vista come la soluzione, ma qualche cosa non tornava, non era chiaro. E soprattutto quel qualche cosa non chiaro è subentrato nel momento in cui una sorta di obbligatorietà inizialmente indiretta, poi diventata diretta per alcune categorie di persone, alcune componenti della stessa società, si è mostrata in maniera decisamente critica. Critica nei confronti di quelli che sono i punti di riferimento per tutti i cittadini. In questo caso parliamo dei cittadini italiani in riferimento proprio alla Costituzione. La Costituzione, il pilastro, il punto di riferimento dell'ordinamento giuridico, il contenitore che ci dice tutto, che ci dice anche quali sono i nostri diritti, i nostri doveri, ma quello che in quel momento storico e avvertiamo anche, dobbiamo sottolinearlo ancora oggi, l'esitazione e la paura nuovamente per quanto riguarda il futuro, ebbene quel punto di riferimento non lo avvertiamo più come prima, è cambiato qualcosa e quel dubbio sul fatto che la stessa Costituzione sia stata messa in grande discussione permane. Da qui la discussione con il Comitato Mutuo Appoggio ai Lavoratori Radio TV per andare a intraprendere un percorso per raggiungere quella conoscenza e quella consapevolezza. E bisogna partire sempre dal punto di inizio, ovvero una domanda, la Costituzione è uguale per tutti? Perché poi in definitiva è quello che è anche mancato volutamente, forse no, forse sì, lo capiremo nel tempo questo aspetto, ma è mancata quella consapevolezza e quella conoscenza di quello che accadeva nel vicino della porta accanto, e proprio noi qui a Trieste, che siamo una città, una città, definirla di confine forse qualche cosa ormai di scontato, ma sicuramente una città plurale, una città con una storia estremamente importante che ha messo in contatto diverse culture, diverse anime di proprio quella che è l'Europa. Ebbene nella Trieste si è vissuta una considerazione molto critica nei confronti di quanto veniva portato nel contesto italiano. E quindi quella domanda, la Costituzione è uguale per tutti, per poter cominciare ad avere una risposta, deve avere anche una comparazione basata sulle esperienze, sulle esperienze della Slovenia, sulle esperienze dell'Austria, quelle realtà che sono presenti nell'anima proprio della città. Quindi comprendere e capire. Per fare questo oggi ci muoveremo su due livelli. Il primo, una sorta di valutazione, di valutazione sociale, per poi scendere nel secondo livello per capire effettivamente gli aspetti giuridico costituzionali in riferimento a tutto quello che è successo. E voglio partire con l'avvocato Mitia Osbic. L'avvocato Mitia Osbic lo possiamo definire un avvocato di frontiera, triestino, allo studio a Sesana, allo studio a Trieste, si muove in questo contesto e quindi ben conosce tutti gli aspetti delle differenze tra una realtà e l'altra. E, avvocato Osbic, partiamo dal primo punto, ovvero il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ci sono le tre parole fondamentali, repubblica, democratica, lavoro. Secondo lei le cose come sono andate? Sì, grazie per l'invito intanto. Dovremo parlarle per ore di questo articolo e dell'impatto che ha avuto in questo periodo. Il primo è la Repubblica e la Repubblica è composta dallo Stato, dalle regioni, eccetera. Abbiamo visto già nel servizio introduttivo che lo Stato ha un po' superato certi limiti di ripartizione sia delle competenze sia tra l'esecutivo e il Parlamento. In questo periodo emergenziale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero il Governo si è arrogato certe competenze che sono, come in quell'unica sentenza ha detto la Corte Costituzionale, sono invece limitate al Parlamento. Per cui l'altra parola democratica vuol dire che il popolo che esercita la sovranità e tramite il Parlamento decide le regole. Allora è stato incrinato anche questo articolo in questa parte. All'università ci insegnavano che a Monte c'è un patto sociale in cui dopo milioni di anni di un certo sistema, diciamo, sociale di convivenza, cittadini hanno detto adesso non mi faccio più giustizia da sé, non fisso io le regole nel mio villaggio, attraverso questo patto sociale delego lo Stato affinché determini le regole. Io vedo anche, diciamo, nel mio intimo ho sentito la rottura di questo patto sociale. Diciamo, ahimè devo dirlo, il patto sociale tra me, Mitia Osbic, e lo Stato o l'Unione Europea non c'è più. C'è stata una risoluzione contrattuale per inadempimento. Il lavoro è avvenuto alla fine 2021, 22, 23, quando sono state introdotte delle limitazioni all'esercizio del lavoro, addirittura dicendo che i sospesi non possono nemmeno ricevere un minimo sussidio. Cito solo così, il Consiglio di Stato in un caso di un dipendente del SISDE che aveva perpetrato più furti e truffe nell'ambito del proprio servizio ha disposto che comunque sebbene sospeso, sebbene sottoposto a procedimento penale, ha diritto a quell'assegno di mantenimento che però non è stato riconosciuto invece agli onesti insegnanti, infermieri eccetera che erano sospesi perché non vaccinati. Questo è un po' il mio impatto. Siccome è trasfrontaliero invece il primo shock è stato quando Farnetti, cioè il valico di confine è stato chiuso perché uno che come tutti noi penso viviamo in un ambiente che si mescola in continuazione, trovarsi di nuovo un muro, una frontiera, dei controlli, l'impossibilità di scambio non solo culturale, sociale, familiare, di studio, di lavoro, quello forse è stato lo shock più grande che ho subito in questo mio essere quotidiano. Avvocato Osbic, lei ha vissuto questa esperienza trasfrontaliera. Cosa ha potuto notare? Quali sono state le differenze che ha visto da una parte e dall'altra, dalla Slovenia e in Italia in quel momento, nel momento più critico se vogliamo, perché qui a Trieste vivevamo le restrizioni, vivevamo la privazione dal mondo del lavoro con la sospensione anche degli stipendi, mentre in Slovenia lei appunto aveva uno sguardo se vogliamo privilegiato nella differenza tra le due realtà. Sì, perché lavorando in entrambi gli stati, avendo i familiari da una e dall'altra parte e poi anche seguendo la giurisprudenza sia italiana che slovena, sono in grado di comparare, diciamo già il governo sloveno, anche se poi è stato censurato più volte, come dirà la collega Emersic per quanto riguarda le limitazioni introdotte, ha cercato di limitare i danni, aveva sempre davanti a sé l'economia, per cui anche quando c'erano, non so, le quarantene per i dipendenti, eccetera, subito introdotto con leggi però, e poi con decreti diciamo, si passava per il Parlamento, ma perché il Parlamento sloveno è molto più snello di quello italiano, cercava di tutelare un po' il tessuto economico, tant'è che poi la Slovenia è ripartita alla grande appena è finito quel primo lockdown, per cui c'erano le casse integrazioni per i dipendenti quando non c'era più lavoro, eccetera, ha anche cercato di limitare al minimo le chiusure non so, degli esercizi pubblici e di tutta l'attività economica. Dall'altra parte però magari senza pensarci ha chiuso i confini con l'Italia e poi si accorta che non avevano magari più le forniture di verdure da treviso e poi hanno capito che le loro fabbriche si bloccavano perché non c'erano più i pezzi che poi loro mandavano in Germania e così via, poi hanno un po' riparametrato diciamo questo aspetto. Però poi se andiamo nello specifico, trasporto scolastico, gli scolari eccetera, vaccinati e non vaccinati, comunque salivano sugli autobus, andavano a scuola, ecco, nelle associazioni e nelle attività sportive si continuava a esercitare le attività, per cui non c'erano questi limiti che abbiamo visto noi per quelle categorie che non erano categorie al rischio come i giovani e tutto l'ambiente scolastico. Si è arrivato il collega Zenz, un po' in ritardo, dopo un lungo viaggio da Vienna. Dopo un lungo viaggio da Vienna, in una giornata anche alquanto difficile, molto bene. Poi dico, ci sono anche, non parlerò oggi, ma abbiamo tentato invece, ci sono state limitazioni da parte della Slovenia per i lavoratori trasfrontalieri, lì ho anche avviato un iter di valutazione della legittimità dei quei provvedimenti, lì invece la Corte Costituzionale slovena si è espressa negativamente, non nel merito, ma perché richiedeva che ci fosse prima un interesse ad agire. Allora bisognava avere prima un'ordinanza di una forza di polizia che bloccava il lavoratore trasfrontaliero e li impediva di passare il confine e da lì si poteva partire con il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Diciamo lì, davanti alla Corte Costituzionale slovena, nel mio ricorso ho perso la collega Emersic con lo studio Piers Musar, in altre ipotesi ha invece vinto. Ecco, prego Lucio di avviare il secondo video. Belgrado rende omaggio alle vittime della strage di ieri in una scuola elementare, due dei feriti restano in condizioni critiche. Sì, del governo sloveno ha rimborso delle multe pagate per le infrazioni dei divieti anti-Covid, poi dichiarati anticostituzionali. Slovenia, le multe pagate per le infrazioni delle regole anti-Covid e poi dichiarate anticostituzionali saranno restituite. Il governo ha approvato oggi la proposta di legge per sanare le conseguenze di tutta una serie di provvedimenti anti-pandemia adottati dall'ex esecutivo Jansha. Con questa proposta, spiegato la ministra della giustizia Dominika Schwarzpipan, stiamo rafforzando la fiducia nello Stato di diritto e stiamo realizzando una delle nostre promesse elettorali. Vediamo. Chi la multa l'ha già pagata se la vedrà restituire. I procedimenti ancora in corso verranno sospesi, le infrazioni saranno cancellate dal casellario giudiziale. Il governo ha approvato oggi la proposta di legge per sanare tutte le conseguenze dei provvedimenti anti-Covid del governo Jansha, dichiarati successivamente anticostituzionali. Si trattava di alcune norme della legge sulle malattie infettive e della legge sui radumi pubblici che limitavano la libera circolazione delle persone e il diritto di riunione. Dal 7 marzo del 2020 al 30 maggio del 2022, sulla base di norme dichiaratamente anticostituzionali, sono stati avviati più di 62 mila procedimenti di trasgressione. In tutto sono state combinate multe per 5,7 milioni di euro, di cui il 30%, 1 milione e 700 mila, sono state già pagate. Il governo si rende conto delle incertezze del periodo Covid e della necessità di agire in fretta. La Costituzione rende possibile l'intervento diretto dell'esecutivo per limitare alcuni diritti in modo da proteggerne altri. Ma anche in quel caso deve essere rispettata alla legalità. Il precedente governo invece, con l'uso eccessivo e anticostituzionale della repressione, ha minato la fiducia nello Stato di diritto e noi vogliamo ripristinarla e consolidarla, ha spiegato la Schwarzwipen. Questo video è introduttivo perché inizia la prima comparazione con la Slovenia, lo Stato qui, vicinissimo appunto alla nostra città, a Trieste, all'Italia. E per parlare di questo abbiamo come ospite Katarina Emersic-Polic, che è partner dello studio Pirs Musar, l'attuale presidente della Repubblica di Slovenia. Specializzata in diritto del lavoro, ma anche in diritto della salute. Do il benvenuto a questo convegno. Benissimo, allora saltiamo la Slovenia e passiamo all'Austria. All'avvocato Mattei Zenz, che è giunto dopo un viaggio avventuroso da Vienna in una giornata che sembra aver trovato tutti d'accordo, ovvero l'inizio dell'inverno al di là di tutte le valutazioni climatiche che vengono fatte in questo periodo. Avvocato Zenz, lei è specializzato in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Il suo studio, che trova sede in più città a Klagenfurt, a Graz, a Ljubljana, a Vienna, si è fortemente impegnato per quanto riguarda i discorsi legati alla libertà di circolazione nel contesto austriaco. Prima ovviamente perché abbiamo deciso di impostare questo convegno in due parti, ma la prima parte è dedicata a cercare di comprendere, di comprendere quello che accadeva in Austria, il contesto sociale, come si viveva, che cosa accadeva in Austria nel momento in cui la pandemia arrivava, ma anche le ipotetiche soluzioni venivano presentate, come ad esempio i vaccini. Grazie, buonasera a tutti. Io parlo un po' di italiano, significa che capisco, ma non ho imparato da tanti anni o solo imparato a scuola, poi se emelio, che parlo in sloveno per me e per lei, così da bom zvegliare in sloveno, ma non ho imparato, ma non ho imparato in sloveno, di Grilc Valkškov. Dane vom presento pandemio z austriškega vedica. Pandemio pomeni z vedica prava in tudi z vedica predvsem sodne prakse austriškega vrhovnega sodišča na to tema. Da pa razumemo, kaj je ustavno sodišče razsojalo v tej pandemii, bom vam najprej na kratko predstavil protek pandemije in ukrepe vlade v Austriji. Mislim, da imam tuto eno prezentazio. Če je una prezentazio? Če je? Ja. Da je da imamo prveč. Če je prezentazio? Oh. Nemo veze. Predstavitev oziroma moji referat je zgrajen na dva dela. Bom zelo nahitro šel to obširno temo obdelati. Na začetku vam predstavim, kaj je bil potek pandemije, kaj so bili okrepi vlade na drugi ravni, potem pa kaj je sodna praksa austriškega vrhovnega, oziroma ne vrhovnega, temveč ustavnega sodišča na to tema. Buonasera, il mio nome je Mattei Zenz, non mi presento perché mi hanno già presentato e ringrazio della presentazione. Semplicemente spiegherò brevissimamente un po' ciò che è successo durante la pandemia da due aspetti, soprattutto il decorso, cioè la cronologia temporale degli eventi, seguita ovviamente da due punti di vista, il primo sono i decreti governativi, dunque le misure che sono state introdotte, la seconda invece è la giurisprudenza della Corte Costituzionale austriaca per comprendere cos'è successo dopo, ovvero in risposta. ok, Siamo in un'altra parte. 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 Tra l'altro prevedeva soltanto la misura della quarantena che però poteva essere applicata soltanto per le malattie che secondo il terminus technicus giuridico austriaco erano malattie soggette a notifica. Se il ministro della sanità decideva una malattia come malattia soggetta a notifica che va notificata, in quel caso di quella malattia ovviamente poteva essere applicata la quarantena. cosa che non è successa, non c'erano basi giuridiche. Siamo in un'altra parte. Siamo in un'altra parte. in base alla sentenza della corte costituzionale che dichiarava le misure anticostituzionali non in quanto andassero contro altri diritti costituzionali, non puoi chiudere indiscrittamente un'attività contro altre attività o limitare i diritti delle persone, ma semplicemente in un modo prettamente tecnico, le misure erano non costituzionali in quanto prive di base giuridica. E dunque solo questa era la sentenza delle corte costituzionali. A settembre per questo ovviamente il governo si apprestò ad approvare la seconda legge sul covid, quella che abbiamo menzionato sulle misure, nelle quali ha previsto tutte le misure che poi intendeva introdurre, dunque il lockdown, le quarantene eccetera. E con una sola differenza che da quel momento in poi, secondo la loro legge, se il governo voleva introdurre queste misure aveva bisogno del consenso di una commissione ad hoc, la commissione principale del Parlamento, per poter adottare delle misure più restrittive, più dure. E anche queste potevano durare per un massimo di dieci giorni, dopodiché dovevano essere formalmente prorogate per poter essere valide. In questo secondo l'ocdano siamo poi in un'esente, in poi siamo arrivati nel terzo l'ocdano, nel terzo l'ocdano, in poi siamo arrivati nel secondo l'ocdano, po leti, po zimi se je vlada potem zgledovala po Evropi in si za spomlad leta 2021 zbrala nov koncept, koncept, ki è podobo, mislim, temo, kaj ste imeli v Italiji z Green Pass, a ne v Austrii, tega nismo imenovali Green Pass, mi smo to imenovali Pas 3G, Pasoč 3G, se pravi, ti trije G-ji pomenijo, da si bil ali cepljen, po nemsko getestet prvi G, da si prebolel COVID, po nemsko genezen drugi G ali pa da si bil testiran tretji G. In s temi tremi G-ji smo potem nekako speljali našo življenje. Če si hotel recimo v kako prireditev, če si hotel v kako gostilno, si potreboval dokaz, da imaš enega teh tri G-jev. Ampak pravila so bila predvsem nejasna, se so vedno spreminjala, napr. za frizerja si potreboval en tak G, če si šel do odvetnika, ne. Odvetniki nismo bili zavezani, da kontroliramo naše klijente, za nas to ni veljalo. V krepi so se tudi vedno nekako spreminjali, kar je bilo za prebivalstvo dokaj nerazumljivo in tudi predvsem komplicirano, ker si mora vsak dan pogledati, da je zvelja kaj. Da bi pa potem, ko se so naprej širili in povečali števile okužb o zimi leta 2021, ljudje motivirali do tega, da se grejo cepiti, ker tudi Avstria je dala glavni poudarek v borbi proti Covidu na cepljenje. Ljudje se pa niso hotli tako zelo cepiti. Mislim, v Avstriji smo imeli eno nej bolj slabih rad cepljenja sploh v Evropi, ker se ljudje pač niso hoteli cepiti. Je potem vlada iz tri G, najbolj naredila dva pa pol G, tam si potem moral biti ali cepljen, ali preboljeti, ali si imel PCR test, se pravi, tist antigenski test ni več veljav. In iz teh dva pa pol G-ev so potem prišli v zakon za dva G-ja. Moral si biti preboljeti ali cepljen. Testiranje ni več zadostovalo. In to od novembra leta 2021 naprej. Ampak, ja. V imenite poče si je pa sati, da li primo lockdown, ali sekondo lockdown, ali terco lockdown. In Austria eravamo molto stretti e molto precisi nel contare, ormai il tempo lo contavamo in lockdown, non più nei mesi. E ovviamente per il terzo lockdown l'Austria ha già preparato quello che avevate voi, il Green Pass, che da noi si chiamava il Pass 3G, perché c'erano tre requisiti, uno dei tre che doveva essere soddisfatto. O eri genesen, dunque hai superato la malattia, o eri geimpft, eri stato vaccinato, oppure sei getested, cioè hai fatto il test PCR, andava bene. Il tampone andava bene. Però ovviamente siccome il tasso di vaccinazione era molto fra i più bassi in Europa, in Austria, ovviamente il governo ha spinto per aumentare, perché noi eravamo abbastanza reticenti a farsi vaccinare. E anche il fatto sta che le regole, fino a quel primo momento, quando avevi ancora tre opzioni diverse, erano molto poco chiare, cioè non coerenti. Per andare dal parrucchiere dovevi avere il Green Pass vostro, il nostro 3G, per andare da un avvocato no. E dunque non si sapeva. Oltre al fatto che come in altri paesi cambiavano le regole di giorno in giorno, andavi dovevi verificare giorno per giorno cosa potevi fare e cosa non dovevi fare. In quanto la campagna vaccinale non procedeva come il governo sperava, ovviamente si sono restritte le regole. In un primo momento era un non 3G, ma un 2G e mezzo. Praticamente o avevi superato malattia o ti sei vaccinato, oppure se fai il tampone non valeva più il tampone, ma devi fare il test genetico. Il tampone non valeva più. Per andare in un secondo momento dove il governo ha ancora restritto ancora di più e valeva solo 2G, aveva 2 solo opzioni, nessun test più, o eri vaccinato o ai superato la malattia. Pomembno je pač treba, pomembno je, da povem, ta 2G režim. V Austriji smo temu tudi rekli lockdown za necepljenje, ker smo v bistvu necepljenje ljudi zaprli iz javnosti. Je veljav samo za privatne zadeve, se pravi za godstilno, recimo za frizerja, ne za delo. To je v Austriji bilo vedno ključno, da si šel delati, nisi potreboval cepljenja. Se pravi, delo je bilo vedno izuzeto iz tega režima. Volevo sottolineare soltanto che il regime 2G, che era in vigore dal novembre del 2021, era ovviamente il regime che noi chiamavamo il lockdown per i non vaccinati, perché praticamente loro erano stati esclusi dalla vita pubblica. E' cosa anche molto importante in Austrii, è il lavoro sempre al primo posto, dunque in ogni modo si poteva andare a lavorare, i requisiti del Green Pass erano sempre per cose personale, per affari personali, tipo parukiere. Mentre il lavoro re san cro santo senza alcun Green Pass si poteva lavorare. To je seveda v prebivalstvu sprožilo deločeno nelagodje, ker ljudi niso razumeli. V bistvu delati lahko gremi, ampak potem zakosilo, ne smemiti v restoranto, se je ljudem zdelo v bistvu nefer, ker lahko sicer delaš za druge. Ampak zase, v bistvu kot necepljen, nisi smel već narediti ni česar. Ker pa tudi ta lockdown za necepljenje v bistvu ni dvignil rato oziroma število cepljenih v taki meri, kot se je to vlada pričakovala, so v Austrii 1. februarja leta 2022 uvedli zakon o obveznem cepljenju. V bistvu zakon je predvideval, da se moraš cepiti. Če se ne cepiš, ti lahko izrečejo kazen v višini do 600 evrov in to vseh rej mesecev. To je seveda absolutno burilo duhove, ker najprve je bil peč ta lockdown za necepljenje, na to še obvezna cepitev. Ob tej točki se je tudi javnost zelo uprla. Imeli smo precejšne demonstracije v Austriji, na Dunaju, masovne demonstracije tudi proti temu zakonu, kot da se vlada v bistvu ni uprla čez ta zakon. Čeprav je formalno veljav, je minister za zdravje odložil eksekucijo tega zakona za nekaj mesecev, kot da ni postal aktiv in ta zakon. Ovviamente, queste mizure hanno suscitato abbastanza rancore nel pubblico, fra i cittadini, perché come mai io posso andare a lavorare, però ecco, nella pausa pranzo non posso andare al ristorante. Cioè, posso fare qualcosa per gli altri, ma quando mi serve qualcosa a me stesso non posso farlo. E ovviamente, siccome il tasso di vaccinazione non andava, comunque non andava su, dunque la campagna non aveva nessun successo, col primo febbraio del 2022 ovviamente è stata varata la legge sulla vaccinazione obbligatoria con conseguenti sanzioni per chi non lo facesse, fino a 600 euro ogni tre mesi nello Stato non vaccinato. Ovviamente, assolutamente grande scalpore e rabbia fra i cittadini, perché prima c'era il lockdown per i non vaccinati, adesso la legge per la vaccinazione obbligatoria, con enormi proteste, soprattutto a Vienna, di massa, al che il governo non osò più applicare la legge, era varata, però con un decreto il ministro della salute ha sospeso l'execuzione della legge per un paio di mesi. Čist na kratko zdaj, ker smo časovno itak že malo stiski, vam še predstavim, kaj je na vse to povedalo avstrijsko ustavno sodišče, ker ljudje so se že med pandemijo zelo spraševali, to so v bistvu zelo močni posegi, a ne v človekove ustavne pravice, če te zaprejo iz javnega življenja, če ti dajo v bistvu obvezo, da se cepiš, so to posegi v človekove pravice. In zato je seveda odgovorno avstrijsko ustavno sodišče, ki je v bistvu že od začetka pandemije, že od aprila naprej, imelo kar precej primerov, ki jih je obdelalo. Nad tisoč primerov je šlo do ustavnega sodišča, kar je za majhno državo, kot je to Avstrija, itak še kar visoka cena, ampak le v 15% tih so te zadeve tudi bile uspešne. Ovviamente, brevisimamente, soltanto un povaj di parole so la jurisprudence della Corte Costitucionale Avstrijaka, perché ovviamente già dall'inizio della pandemia ci sono stati i primi ricorsi davanti ai tribunali perché si strattava di misure che comunque andavano a ledere in modo molto forte i diritti fondamentali, cioè il diritto alla vita pubblica, anche l'obbligo vaccinato entra nella sfera personale in modo molto forte. Dunque, la Corte Costituzionale già dagli inizi dell'aprile del 2020 riceveva le prime istanze e ricorsi contro i provvedimenti del governo. Già ai primi mesi avevamo mille casi, che per Austria, che è un paese non è tanto grosso, mille casi davanti alla Corte Costituzionale, è un numero ben grosso. Devo dire con un tasso di successo del più o meno 15% dei ricorrenti. Stavno Sodištio 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 to, kar je delala vlada. Ma pennelly su vse te zakone in uredbe vlade legitimiralo oziroma pritožbe niso bile uspešne. Če è Ustavno Sodišče, kako sodbo oziroma kako uredbo razglasilo za nezakonito, je to boli storilo iz formalnih razlogov, ker Ustavno Sodišče vedno točno gledalo, kako je vlada argumentirala okrepe in na kateri zakonski osnovi. Zdaj, Ustavno Sodišče se ni bavilo precej z raziskovanj o cepljenju in drugih znanstvenih temah. Oni so samo pogledali, je vlada za tale ukrep imela neko fondacijo ali pa ne. In v primerih, ko temu ni bilo tako, ko ni bilo zakonske osnove, so uredbe oziroma zakone razglasili. Naprimer, en tak hitr primer je, da so razglasili za nezakonito uredbo, ki je zahtevala nošenje mask v javnih, ampak zaprtih prostorih, ker ni bila dovolj utemeljena. E dunque la Corte Costituzionale non è risultata molto severa nei confronti dei decreti governativi, cioè andava a valutare i casi soprattutto dal punto di vista formale, dunque dichiarava qualche decreto o misura illegittima soltanto in quanto difettosa perché priva di base giuridica, oppure non chiaramente argomentata o motivata dal governo nel vararla. Non tanto non si andava a studiare gli aspetti scientifici, non è andata nelle questioni sostanziali, ma soltanto in quelle formali. Dunque per esempio, per quel che riguarda l'obbligo delle mascherine negli spazi pubblici chiusi, ha detto sì, è illegittima perché il governo non l'ha motivata con abbastanza sufficiente chiarezza e dunque non si capiva come si doveva applicare questa misura. Ecco, questo è per esempio uno. Zdaj, kot pravnik, naprimer, ko pridemo do teh precej kočlivih zadev, kot je bil to lockdown za necepljenje oziroma ta zakon o obveznem cepljenju, prvo, kar pravnik, ki se spoznav na ustavno pravo vidi, je seveda tukaj zakonodajalec, ljudje oceni neenako. Neenako spre pravom je ustavna pravica v Austri, mislim, da je tudi v Italiji in tudi v Sloveniji seveda. In, ko so bili uvedeni ti zakoni za obvezno cepljenje oziroma odredbe za lockdown za necepljenje, so vsi tako izkočili na to enakost pred zakonom in si pričakovali od ustavnega sodišča. To je pa nekaj, ko more ustavno sodišče zdaj ukrepati. Ustavno sodišče se je to tudi ogledalo, bilo so pri tožbe, ampak pri lockdownu za necepljenje je v bistvu kratko malo rekla, gledajte, vlada je tedaj, ko je sklenila ta zakon, v bistvu lahko izhajala z tega, se so jim znanstveniki tu rekli, da so necepljeni bolj nevarni, da sprožijo COVID kot necepljeni, zato v bistvu jih lahko zakonsko obravnavaš drugače kot cepljenje. Se pravi, tale ukrep je bil v bistvu primeren za prepreče širjene COVID-a, bil je tudi nujn in sorazmeren po ustavnem sodišču, se pravi, tale lockdown za necepljenje je bil v redu. Kar je ustavno sodišče pa kljub temu naredilo je, da se je v detaljom zadevo pogledalo in naprimer reklo, ok, če imaš že tak lockdown za necepljenje, če jim v bistvu prepoveš dostop do javnosti in rečeš, ti smeš v javnost samo za neke nujne osebne potrebe, mora zakonodajalec pa tudi pogledati, kaj so te osebne potrebe. Na začetku je to bilo samo nakup živil in v bistvu greš do zdravnika, take čisto osebne zadeve. Frizer izredno izključen. Potem, ko je ta lockdown za necepljenje, potem že trajal enest tednov na koncu, je pa ustavno sodišče rekla, gledajte, po enestih tednov imajo ljudje v bistvu lasje dolge kot Jezus Kristus, tudi friser lahko postane potem nekaj tako osrednjo osebna potreba. Se pravi, je ta člen bil razglašen za neko zakonitelega, ko so ljudem preprečili, da grejo k frizerju. Dunque, da avvocato, quando vediamo queste misure come il lockdown per i non vaccinati o l'obbligo vaccinale, ovviamente ci proviamo il primo problema che ci poniamo, è molto meno formale ed è l'ugualianza davanti al diritto, un principio soccasanto, sia del diritto ostrico che, come prevedo anche in Italia e anche in Slovenia. e la legge che introduceva l'obbligo vaccinale, ovvero il lockdown per i non vaccinati, ovviamente le persone si aspettavano che la Corte Costituzionale agisse in modo molto più energetico contro queste misure. Invece no, diceva per esempio per quel che riguarda il lockdown per i non vaccinati, la Corte Costituzionale disse che il governo con questa legge praticamente aveva una motivazione scientifica, i scienziati hanno spiegato che chi non è vaccinato era più pericoloso per il pubblico per via della diffusione della malattia e dunque non si trattava di disuguaglianza davanti alla legge ma era un'altra categoria per le persone e dunque il lockdown era una misura sia adeguata che anche necessaria e anche proporzionata secondo la Corte Costituzionale. Poi è andata a vedere i dettagli per quel che riguarda il lockdown per i non vaccinati, diceva che se non hanno accesso alla vita pubblica non possono uscire di casa tranne per necessità personale e qui invece la Corte Costituzionale dice sì. Qui invece il governo deve motivare sufficientemente cos'è una necessità personale perché in un primo momento le necessità personali erano acquisto di alimentari e visita mediche e basta. Il parrucchiere per esempio non era fra le necessità personali, però dopo 11 settimane di lockdown quando i capelli ce li hai come Gesù Cristo diventa necessità. Anche in questo caso la Corte Costituzionale dice sì, che si sono stati, però dopo un'è se temanile pari, che è davvero una necessità. Na koncu bi šel čist kratko do najbolj kontroverznega okrepa vlade, seveda ta zakon za obvezno cepljenje. Zakon je, kot rečeno, predvideval, da osebe, ki se ne cepijo, dobijo denarno kazen v višini do 600 euro in to lohto dobijo vseh treh mesecev. Ta zakon je, seveda, hud in oster poseg v pravico do zasebnosti. To je tudi ustavno sodišče tako videlo in reklo, zelo, zelo oster poseg. Imamo visoke meje, da lahko gremo do takega posega, ampak in tu je ustavno sodišče, mislim, postalo malo strahopetno, ker je ta zakon bil tako kontroverzen, da niso hoteli o tem prav presojati, so enostavno rekli, z tem odlokom ministra, ki je rekel, da zakon ne bodo eksekutirali do poleti, v bistvu zakon ne velja, zaradi tega mi, kot ustavno sodišče, tudi ne mogemo povedati oziroma ga razglasiti za ne zakonitega, ker se ga itak ne uporablja, ker je malo šibka argumentacija, ampak tako so se rešili iz te zadrege in zakonodajalec je potem že po šestih mesecih ta cel zakon itak spet razglasil, se pravi ne velja več, ustavno sodišče nikoli ni presojalo o tem, ali je bila ta obveznost cepljenja tako hud poseg v pravo zasebnosti, pravico sasebnosti ali ne, ne vemo do danes. Zdaj, čist kratko sklepno, se vidi prav pri teh zadevah lockdown za necepljenje in pri zakonu o obveznem cepljenju so se ljudje od ustavnega sodišča pričakovali bolj jasne sodbe, ustavno sodišče je bolj ostalo tako na eni bolj rahli zadržani meri, vendar jaz mislim, gledano na celotno pandemijo je do, kaj je bilo tako, da je ustavno sodišče vsaj na formalnosti, na ravni formalnosti razglasilo kar nekaj o red in vedno gledalo, gledajte, mi nismo znanstveniki, ampak mi smo pravniki in kot pravniki zahtevamo, da tudi vlada dela domače naloge pravilno in sklepne primerne zakone, se pravi tak mnich korrektiv je bil na koncu leh. E dunque ovviamente il punto pių controverso era ovviamente la legge sull'obbligo vaccinale, quello che intrudeva l'obbligo che se non invece non faceva il vaccino potevi ricevere una multa fino a 600 euro ogni tre mesi. E' una violazione secondo il nostro punto di vista da giuristi molto forte della privacy, veramente intromissione diretta nella vita privata, enorme, enorme, cioè smisurata. E dunque anche per questo le persone si aspettavano che la Corte Costituzionale reagisse in modo vigoroso. Invece praticamente la Corte è risultata molto codarda, andando a giudicare sempre soltanto gli aspetti formali, non pronunciandosi in merito e dicendo noi non siamo scienziati, noi siamo giuristi e dunque dobbiamo decidere soltanto in maniera giuridica, non dal punto di vista scientifico, ovvero andare nella stessa materia. E' successo praticamente che si sono trovati una via di scusa, siccome il Ministro per paura delle proteste ha sospeso l'applicazione della legge per un periodo di un paio di mesi, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito dicendo ma noi come Corte Costituzionale non possiamo pronunciarci in merito alla costituzionalità, all'egittimità di questa legge, perché tanto non è in vigore. Cioè hanno trovato questa scusa, che come argomento secondo me è molto debole, però è questo che hanno trovato. E dunque in conclusione posso dire che entrambe le misure, sia il lockdown per i nuovi vaccinati come l'obbligo vaccinale, come già detto le persone si aspettavano una cosa più vigorosa, invece loro hanno trovato una scusa un po' più debole, caricando il barile sul governo, dicendo beh è il governo che dovrebbe fare compiti di casa e dunque argomentare in modo adeguato quello che introduce. Tutto qui, grazie. Bene, adesso io chiedo la conferma. Abbiamo in linea l'Avvocato Emersic? Sì? Benissimo. Sì. Allora, l'Avvocato Emersic, eccola da Ljubljana, che oggi doveva essere presente, ma viste le situazioni climatiche non ha potuto raggiungerci. Prego, Avvocato, la situazione in Slovenia, com'era in quel momento storico? In anci tutto vorrei ringarciarvi per l'invito in miskuzo per non essere stato lì, con voi di persona, ma la situazione sulla strada, causa delle neve vera da vero kaotica. Prego, ora, parlero in Sloveno. Torej, v Sloveniji je bilo sprejeto jih veliko različnih ukrepov, veliko je bilo tudi ukrepov, ki so se le deloma navezovali na epidemijo, ampak so bili kljub temu sprejeti v tem času iz tega razloga. Prvi ukrepi so bili sprejeti 12. marca 2020. Naprimer, šlo je za prepoved prehajanja izven občine za časnega ali stalnega bivališča, razen naprimer za prihod na delo, za dostop do zravnika, lekaran oziroma oskrbe ožjega družinskega člana. Po rahljanju teh ukrepov se je pa prepoved prehajanja, predar zašile na prepoved prehajanja med regijami, torej ne zgolj med občinami. Ni bilo pa v Sloveniji nikoli uveljavi, da osebe ne bi smele zapustiti stanovanja oziroma, da bi bilo gibanje omejeno zgolj na nekaj sto metrov od bivališča. Zdaj nekaj časa na začetku je bilo tudi druženje omejeno, le na ožje družinske člane oziroma gospodinstva. Imeli smo pa tudi tako imenovano policijsko uro, ko ni si smel zapustiti doma oziroma biti zunaj od 9. ure z večer do 6. ure zjutraj. To se je zgodilo v tako imenovanem drugem valu 18. oktober 2020 in Slovenija je bila izmed držav EU tista, ki je imela najdile trajajočo policijsko uro. In Slovenija so state adotate varje mizure diverse, delle koli solo in parte legate all'epidemia o pandemija stessa, ma comunque adotate in quel momento a skopi in korelacione con la pandemia. Le prime mizure so state adotate già il 12 marzo 2020 come per esempio il divieto di attraversamento dei confini del comune di residenza temporanea o permanente insomma ad eccezione dei pendolari o nella necessità di accedere a farmacie medico assistenza familiari e dopo di seguito anche il divieto di attraversamento del confine delle regioni, ma non c'erano restrizioni come in Italia che non si poteva nemmeno uscire di casa o allontanarsi più di 100 metri dalla propria abitazione. Dunque all'inizio anche la socializzazione è stata limitata il nucleo familiare, c'è stato anche un coprifuoco, non si poteva uscire dalle nove di sera alle sei del mattino nella seconda ondata dal 18 ottobre 2020 e la Slovenija è stata il paese dell'Unione Europea con il coprifuoco più lungo in termini di mezi. V zdravstveni ustanovah so tudi prekinali zvajanje nenujnih preventivnih zdravstvenih storitev, torej bolnišnice so opravljale le storitve stopno nujno ali zelo hitro, zidem onkologijeno in obrovnave nosečnic bred svremstva. Vkinajan je bil tudi javni prevoz. Uveljavljene so bile v dručju na trenutku popolne prepovedi vseh shodov oziroma popolne prepovedi neorganiziranih shodov ali umeitve shodov na največ desetih deležencev, pri čemer pa v tislem času, ko je bilo zbiranje za shode izenačeno z druženjem zasebljana mine, torej za zabave, poroke, zasebljana srečanja in na ta način omejeno, čeprav je zbiranje za shode ena izmed osnovnih političnih pravic demokratične družbe, so bila pa dovoljena zbiranja v zaprtih prostorih, ki niso zasebne narave, na primer v okviru verskega oddejštovanja. In to je presvojala tudi ustavno sodišče, ki je reklo, da je vlada omogočila izvrševanje človekoje pravice do zbiranja za namene verskega oddejštovanja, zato pa ni bilo mogoče razumno trditi, da je bila prepoved vseh shodov, ki izvira pa čez iste pravice, nujna za prepračevanje nastanka težko popravljivih škodljivih posledec za zdravo in življenje ljudi in da ne bilo mogoče tu vrstne ureditve, kot v primeru kolektivnega urešničevanja verske svobode, sprejeti tudi za shode. Zdaj je ustavno sodišče celo povdarilo, da se shodov ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namene verskega oddejštovanja in zato so bi te prepovedi shodov v ne skladijo z ustavo. I servizi sanitari di prevenzione non urgenti sono stati sospesi nelle strutture sanitarie, gli ospedali fornivano solo servizi di emergenza molto urgenti, a decezione ovviamente dell'oncologia e delle donne in gravidanza non accompagnate ovviamente, se è stato abolito il trasporto pubblico, c'è stato un divieto totale di ogni tipo di assemblamento di raduni, comizi soprattutto politici, noi lo chiamamo comizio appunto, che poi è uno dei diritti fondamentali della vita democratica, mentre gli assemblamenti erano permessi nelle chiese, dunque per servizi religiosi. E questo aspetto è stato preso in considerazione dalla Corte Costituzionale, che ha affermato che in quanto il Governo ha permesso gli assemblamenti in chiesa, dunque l'esercizio del diritto alla religione, all'espressione religiosa, non poteva trattare di meno, di un valore minore, a sembramenti di altro tipo come appunto di natura politica, eccetera, e dunque qui si trattava di una discriminazione e dunque erano inconstitucionali. Vlada je tudi zaprla vse vzgojno izobraževalne ustanove, tako da se je vedlo šolanje nadaljavo in to tudi za otroke s posebnimi potrebami, čeprav kot je ugotovilo ustavno sodišče, je število šulajočih se otrok s posebnimi potrebami tako mehno, da to ni moglo bistveno do prinesk preprečevanja nadaljnega širjenja virusa in da tudi ti otroci potrebujejo posebej vzposobljene strokovne delovce, ker pač starši niso dovolj in da so bili prikrajšani še za posebne obravnave, ki so jih sicer deležni v teh zavodih. Zato je bilo zaprtje šol za te otroke še veliko večje posledice, kot pri drugih otrocih. Je pa v Sloveniji ena izmed držav EU, kjer so bile najdleje zaprte šolske ustanove in je povk potekl nadaljavo, ker je namreč skoraj eno leto trajalo, zazjemo kratkega umestnega obdobja, ko so otroci bili v šoli, da so učenci znova sedli v šolske klopi. Il governo pravi ha chiuso tuti gli istituti skolastici ed je stata introdotta la DAD, anche in Slovenija, anche per i bambini con disabilità. E qui ovviamente je stato afrontato il problema dinance la costa constitucionale, perché ovviamente il numero dei minori con disabilità, secondo anche il parere della Corte Costituzionale, è talmente esiguo che anche il loro lockdown non avrebbe contribuito in modo significativo alla riduzione delle trasmissioni della malattia. Dunque non era una misura tanto necessaria, invece i bambini con disabilità avevano tanto più bisogno di professionisti appositamente formati ad assisterli. I genitori non potevano farlo a casa da solo, hanno anche bisogno di trattamenti speciali e dunque qui c'era una differenza e la Corte Costituzionale l'ha riconosciuta. Poi da notare soltanto che in Slovenia la chiusura delle scuole era una delle più lunghe in tutta l'Europa, cioè è turata quasi un anno con una breve prasa prima delle vacanze estive e dunque molto forte per i minori. La Prte so bile tudi vse nenujne prodajalne z izjemo trgovin živili lekarom, doberbencinskih servisov, bank, pošti in trofik in prepovedana je bila prodaja določenega blaga in izvajanja določenih storitev, naprimer frizerskih, kosmetičnih. Bilo je tudi omejeno število ljudi v trgovinah. Ranljivim skupinam, naprimer starejšim, je bil dodoljen posebno časovni okvir za obisk trgovin kot drugi dejansko nismo mogli leti v trgovina. Delo so zaostavila tudi sodišča in številna podjetja v državi. Roki na sodiščih recimo niso tekli, obravnav razenujnih ni bilo. Potem, ko so se začelo malo sprošati, ko so se začele razmere umirjati, je bilo na sodiščih potrebno izponevanje tako imenovanega PCT-pogoja, torej, da si prebolel cepljan ali testiran in nošenje zaščitnih mask. Ovviamente, sono stati chjudi tudi negoci non di prima necessità, dunque, eccezione erano alimentari, farmacije, stacioni di servicija, banke, ufice, postale in dedicole. Anke nei negoci, ki erano di prima necessità, si je proibita la vendita di certi arikoli, ki venivano considerati di non prima necessità, con un numero delimitato e contato di persone nei negozi, con delle fasce orarie riservate ai gruppi più vulnerabili, anziani, eccetera, che potevano fare acquisti in quelle ore e altri non avevano accesso al negozio in quelle ore. E' stato bloccato, ovviamente, tutta l'economia, le aziende che chiudevano, i tribunali che hanno sospeso i termini dei vari procedimenti, non sono state, non c'erano udienze e quando la cosa si je cominciata a calmare un pochino, la vita è ripresa e anche il lavoro dei tribunali con l'obligo del Green Pass e delle mascherine. V večji meri je bilo uvedeno delo od doma, država pa je delo odajalcem, ki so delavce napotili na čekanje na delo domov, ker začasno niso mogli zagotavljati delo, povrljena, nadomestila plač s tem delavcem in jih tudi uprostila plačila prispevkov za socialno varnost. Subvencionirano je bilo tudi skrajšanje polnega delovnega časa. Če so bili delavci v bolniškem staležu oz. okužbe s Covid-19 na domestilo plače znašalo 100% in ga je krila država in ne le 80%, ki ga prvih 30 delavnih dni sicer krije delodajalec, kot je normalno urejeno. Samostojni podjetniki so prejemali izredno pomoč oz. na domestilo za izpad prihodkov, če so to lahko izkazali. Dan pa je bil tudi enkratni solidarnostni prispevek za obokojence in na primer za študente. Probabilmente si je pasati allo smart working. Lo Stato ha introdotto nuove mizure di rimborso, di subvencionamento aj datori di lavoro per il lavoro a distanza, ovvero lavoro part-time. I lavoratori, ki so stati mesi in casa integracione nel tempo, in kui aspetavano, ki finisse. Questi dipendenti sono stati anche zentati dai contributi sociali. Poi se il lavoratore si ammalava di covid-19, l'indirizzo era pari al 100%, finanziato dal governo direttamente, a differenza del 80% che per i primi 30 giorni di solito viene finanziato dal datore di lavoro. Le imprese individuali, dunque le partite IVA, ricevevano un aiuto d'emergenza, un sostegno al reddito, se erano in grado di dimostrarlo, e c'era un contributo di solidarietà, una tantum, per i pensionati, per esempio, ali per i studenti. Obvezno je bilo globa staršem, ki so na sprehodu z otrokom sred mesta jedli rogliček in predtem niso nosili maske. Zdaj novembra 2023 je začel veljati zakon o povračilu glob zaradi tako in manjih neustavnih covidnih ukrepov, ki med drugim predvedeva povrnitev plačanih glob v postopkih, ki so bili uvedeni na podlagah, za kateri se je izkazalo, da so ne skladne zostave, zostavo, teh glob je bilo pa kar za 5,7 milijonov evrov. Ovviamente c'era anche l'obbligo delle mascherine negli spazi pubblici chiusi, la maggior parte delle volte ovviamente nelle strutture sanitarie, c'era l'obbligo della desistituzione delle mani, la ventilazione dei locali, i tribunali si sospendeva l'udienza in metà per aprire le finestre, areare gli spazi, non dovevamo uscire, eccetera. E anche l'obbligo delle mascherine all'aperto era stato introdotto per un periodo molto breve con il caso eclatante che ha fatto il giro della Slovenia della coppia che portava in giro il figlio in carrozzina e si è permessa di togliersi la mascherina per un istante per poter mordere un croissant multato di 500 euro. Nel novembre del 2023 è entrata in vigore la legge sul recupero, cioè il rimborso delle multe per misure, ovvero sanzioni di violazione delle misure Covid che tra l'altro prevedeva anche il rimborso delle multe pagate ovviamente in procedimenti aviati per motivi giudicati poi in costitucionali. Il totale in caso delle multe amontava 5,7 milioni di euro in Slovenia. Država je uvedla različne omejitve človekovih pravit zaradi preprečevanja takega širjanja bolezni Covid-19 ki bi preseglo zmožnosti slovenskega zdravstvenega sistema, je pa to storila večinoma s podzakonskimi akti. Zdaj 153 člen ustave pravi, da zakoni podzakonski predpisi in splošni akti morajo biti v skladu z ustavo, da podzakonski predpisi in splošni akti morajo biti pa tudi v skladu z ustavo in zakoni, se pravi najprej ustava na to zakon na to podzakonski akt. Posledično so se glede ukrepov zato množečno vlagale zahteve oziroma pobude za presvoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, s katerimi so ti ukrepi bili uvedeni in sicer na ustavno sodišče. La major parte, overo tute le restricioni dei diritti umani per prevenire la diffusione del covid sono state introdotte dal governo tramite decreti e l'articolo 153 della Costituzione dice che le leggi regolamenti e altri atti generali devono essere conformi anche ai decreti alla Costituzione. I decreti e altri atti generali devono essere conformi alla Costituzione e alla legge. Dunque abbiamo questa gerarchia della Costituzione delle leggi e dei decreti sotto di queste. Di conseguenza tutte le richieste di istanze ovvero i ricorsi davanti alla Corte Costituzionale per vedere la Costituzionalità dei regolamenti sono state presentate appunto davanti alla Corte Costituzionale per questo motivo se erano in linea con la Costituzione. Mi smo pa v naši odvetniški družbi uspešno zastopali Policijski sindikat Slovenije in zahteval presol ustavnosti in zakonitosti odloka, ki je določil, da morajo zaposleni v organih državne uprave za upravljanje nalog na delo na mestu v prostorih delodejalca ali pa v prostorih drugega organa državne uprave izpolnjevati pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Krati je bilo sicer določeno, da lahko zaposleni izpolnjuje samo pogoje testiranja, torej, da ni bil cepljen ali prebolev, če se cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih razlogov, obstajla pa tudi še izjema, da se za vsebe, ki pogoje ne izpolnjujajo, organizira delo na domu. To pa seveda za policiste, ki smo jih zastopali, ni prišlo con successo il sindicato della polizia della Slovenia, chiedendo il riesame della costituzionalità e della legalità del decreto che prevedeva per i dipendenti pubblici che dovevano soddisfare la condizione di, ovvero, aver superato la malattia o di essere stati vaccinati per poter lavorare nel posto di lavoro, dunque nei locali del tore di lavoro o nei locali di un altro ente statale. Se non potevano dimostrarlo, ovviamente potevano farlo con smart working, dunque a distanza, a domicilio, cosa che per i policiotti ovviamente è impossibile. Mislim, da ste še pozabili tis del, da lahko si bil tudi samo testiran, če si imel zdravstveni razlog, da nisi cepen. Ovviamente potevano essere, la condizione di aver il test, cioè il tampone, poteva essere applicata soltanto, se c'era la giustificazione da parte di un medico dimostrando, che la persona non poteva prendere il vaccino, dunque solo in questo caso poteva servire il tampone. Stavno sodišče je ugotovilo, da ker pogoje prebolevnosti ni predmet svobodna izbira posameznika, je šlo dejansko zato, da se je ceplenje določilo kot delovnopravni pogoj za upravljanje dela v državni upravi. Pravno podlago za urejanje tovrstnega ceplenja pa predstavlja zakon o lezljivih boleznih, ki v 22. členu predpisuje obvežno ceplenje proti proti drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo zato epidemiološki razlogi in če tako določa program iz 25. člena tega zakona, torej letni program ceplenja in zaščite zdravili, ki ga pa na predlog NAC za javno zdravje določ ministr prestojen za zdravje. E dunque la Corte Costituzionale ha ritenuto che poiché la condizione di aver superato dunque aver avuto la malattia e di averla superata deve essere guariti non era una questione di libera scelta dell'individuo praticamente la condizione come vaccinazione è diventata una condizione obbligatoria per poter lavorare nell'amministrazione pubblica. La base giuridica per regolamentare tale vaccinazione era a detta del Governo la legge sulle malattie infettive che all'articolo 22 prevedeva la vaccinazione obbligatoria contro alcune malattie espressamente elencate difterite tetano perdose poliomilite morbillo parotite roslia epetite b eccetera ma e l'articolo 22 prevedeva anche l'obbligo di vaccinazione contro altre malattie infettive in presenza di determinati motivi epidemiologici e anche se il programma di cui all'articolo 25 della stessa legge ovvero il programma annuale di vaccinazione e protezione farmacologico veniva stabilita dal ministro della salute su proposta dell'ente nazionale per la protezione della salute pubblica program pa v relevantnem času ni določil cepljanja proti bolezni covid-19 kot pogoja za upravljanje dela vdročene skupine ali skupin zaposlenih glede na to da izpodbijanje ukrepke ga je sprejela vlada z odlokom za zaposlenje v državni upravi ni bil sprejet v skladu zakonskimi zahtevami je ustavno sodišče presodilo da je odlok ne skladi za stavo in smo pa znaš zahtevo uspeli je pa res da je ustavno sodišče še povdarilo da to ne pomeni da je cepljanje zaposlenih kot pogoj za upravljanje določene dejavnosti ali poklicev nesorazmeran ukrep ali pa da korist ki jo cepljanje sicer prenaša skupnosti ne od teh ta škode ki jo cepljanje kdaj v izjemnih primerjih lahko povzroči po samezniku ampak odločitev ustavnega sodišče pomeni da bi ta ukrep bilo potrebno urediti v skladu in postopek zdaj mogoče če se samo navežem na predavanje avstrijskega kolega se je tudi v tej odločbi ustavno sodišče opredelilo do avstrijske ureditve v tem smislu da je reklo da je avstrijska ureditev ko so oni tudi imeli ta pogoj PC se pravi da si prebolel samo ali da si cepljan da je posebini drugačna kot je naša slovenska ureditev in da se je s tem pogojem v Avstriji predvsem omejevalo javno življenje v Sloveniji pa je bil ta pogoj PC uveden z ukrepom izvršilne vajoblasti in isključno za dostop do dela in še to samo za zaposlene v državnih organih zvršilne zvršilne Siamo riusciti ad avere successo davanti alla Corte Costituzionale che ne ha giudicato l'incostituzionalità. Però ha aggiunto che la Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato che la sentenza non significa che richiedere la vaccinazione dei dipendenti per poterli permettere di svolgere certe attività sia una misura sproporzionata o che il beneficio che la vaccinazione apporta alla comunità non superi il danno che la vaccinazione può recare all'individuo. La decisione della Corte Costituzionale è probabilmente formale dove dice che il governo deve varare i decreti in linea con la Costituzione ovvero con la legge sulle malattie infettive. Se mi ricollego in conclusione anche a quello che ha detto il collega austriaco, anche la Corte Costituzionale nel pronunciarsi ha richiamato il caso dell'Austria dicendo che mentre le misure in Austria andavano a limitare soprattutto la partecipazione nella vita pubblica, le misure slovene intaccavano ovviamente il diritto al lavoro perché la possibilità di svolgere la propria attività, soprattutto in ambito pubblico e dunque nella pubblica amministrazione. Grazie per la vostra attenzione e se avete qualche domanda sono lieto di risponderle. Grazie. Avvocato Otsbic, entriamo nell'ambito giuridico. Sì, siccome il tempo corre, è solo una precisazione diciamo di tipo comparativo, a differenza della Corte Costituzionale italiana in cui non si può adire dire direttamente la Corte, cioè i singoli cittadini non possono richiedere una valutazione costituzionale di questo tipo, in Slovenia e anche in Austria è possibile azionare questi procedimenti anche direttamente, non solo nei confronti di atti di legge ma anche di atti sub-legislativi, cioè anche governativi, se vanno a ledere dei diritti costituzionali. Per cui in Austria c'erano mille ricorsi e la Corte Costituzionale slovena era intasata dalle cause Covid e aveva non so quante sessioni per trattare queste che bloccavano altre questioni di costituzionalità. Allora, slide successiva. Io volevo partire da un aspetto metagiuridico perché dobbiamo capire che il diritto non è la matematica, è più la filosofia e la filosofia parte sempre da dei presupposti ambientali, sociologici, eccetera. Se diamo per esempio la prossima slide, per esempio in materia di la Cassazione, tipo quando va a aiutare certi reati, per esempio nell'ambito sessuale, cambia la giurisprudenza rispetto ai comportamenti, diciamo, e alle regole di comportamento di una certa società. Se il bacio sulla guancia, per esempio, era una cosa normale, diciamo, a una donna per strada 30 anni fa, adesso può anche essere un fatto, una fattispecie di rilevanza penale se la donna non è consensiente. Per cui io parto da dei presupposti al diritto arriviamo dopo, ecco, per questo dico non farò una carrellata su tutte le sentenze della Corte Costituzionale, ma parto da quello che avevano in mente i giudici. Da una parte la Corte Costituzionale, nelle due sentenze che commenterò, la 15 e la 14, che una riguarda il diritto allo studio però di uno specializzato di medicina, e l'altra invece il diritto al lavoro degli operatori sociosanitari. La Corte Costituzionale parte dai presupposti scientifici, li chiama che l'infuzione è impedita dal vaccino e anche la trasmissione del virus è impedita dal vaccino. Io ho tenuto già all'inizio una nota della SUGI, dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, del febbraio 2021, indirizzata alle case di riposo e a tutti gli enti residenziali, in cui scrive questo, questa è la ricopiatura di quella lettera che ho prodotto in ogni giudizio che riguardava queste fattispecie, e ci dice che anche nei soggetti vaccinati, anche con la seconda dose, sono risultati positivi del test anche con alta carica virale, per cui in quella lettera indicava i comportamenti da seguire, fare i test ai non vaccinati ogni settimana e ai vaccinati ogni due settimane. Per cui già la SUGI, che poi ha sospeso i propri lavoratori più tardi, nella seconda parte del 2021 e poi nel 2022 fino al 2023, le aveva detto a lei stessa che in realtà il vaccino non impedisce l'infezione. Poi lo sapete, quelli che sono del settore che l'AIFA nei foli illustrativi anche ci dice che il virus non induce l'immunità, per cui solo dice al sistema come reagire quando il virus entra nel corpo umano. Diciamo che la Corte Costituzionale italiana, a differenza delle altre, è entrata anche un po' nell'ambito scientifico. Ma perché? Le questioni pendenti innanzi alla Corte, la successiva slide, che riguardavano il decreto a legge 44 del 2021, che introduceva anche tra l'altro degli obblighi vaccinali per le categorie di tipo sociosanitario. Per esempio, al 6 settembre 2022, c'erano 10 ordinanze di rimessione di vari giudici del lavoro o anche giudici amministrativi, quando riguardava questioni che rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Qui posso dire, io prenderò come esempio, perché secondo me, se andiamo alla slide successiva, a parte ci ha stupito, diciamo, come giuristi, e all'università, a parte non sapevamo nemmeno che esistesse il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che ha lo stesso livello del Consiglio di Stato, è l'ultimo grado di giurisdizione, cioè sopra Itaro, Sicilia, c'è questo organo che decide, quello che decide a Roma il Consiglio di Stato per tutte le altre regioni. questo organo e poi un giudice militare che, io avevo sempre dubbi sui giudici militari, perché l'ho detto, applicano codici militari, eccetera, e sono un tribunale speciale, per cui non sono anche se conforme a Costituzione, allora li guardavamo così come tribunali di secondo grado, giudici di pace, che qualcuno pensa che siano dei giudici di secondo livello. Ecco, io, se andate a vedere, a parte il giudice di Firenze, che ci parlerà poi la collega, le ordinanze di rimessione, che vanno proprio analiticamente col bisturi, a analizzare ogni aspetto, se guardate quella del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, lì i giudici hanno proprio sezionato ogni problema, hanno messo sul piatto pro e contro, e in base a quello poi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Andiamo alla successiva. Per cui io chiamo che c'è questo trittico, del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la Corte Costituzionale nelle sentenze 14 e 15, e poi arriva l'ordinanza del marzo dell'anno 2023, del giudice Zanda di Firenze, che prende le sentenze della Corte Costituzionale, anche lei col bisturi va a sezionare ogni argomento. Per cui abbiamo, diciamo, un microchirurgo a Monte, che è là il Consiglio della Giustizia Amministrativa, e poi un altro microchirurgo a Valle, che fa la seconda operazione, e diciamo il corpo morto, che sono le sentenze della Corte Costituzionale, perché sono partite da quei presupposti, che non sono presupposti di diritto, sono presupposti scientifici, fattuali, per i quali la Corte Austriaca ha detto io sono un giurista e non entro lì dentro. Per quelli che non sanno, a parte che quello della Regione Sicilia è presieduto il collegio dalla dottoressa De Nictolis, che è un giudice molto noto, che fa anche corsi per i giudici amministrativi a livello di Consiglio di Stato, e lì loro non hanno deciso solo in punto diritto, hanno detto noi siamo giuristi, allora cosa facciamo? Hanno fatto un'istruttoria, le istruttorie di solito sono nei giudizi civili, nei giudici amministrativi è un po' difficile, questo addirittura era un giudizio di secondo grado, per cui hanno fatto un'istruttoria in secondo grado. E non hanno nominato periti esterni, ma hanno preso periti, il collegio di periti era formato da dipendenti dell'Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, il terzo non mi ricordo, però erano tutte le stesse persone che hanno introdotto la base scientifica per le varie limitazioni, per cui i giudici siciliani sono partiti diciamo da una base scientifica predisposta dallo stesso Ministero della Salute e da lì hanno mandato la questione alla Corte equistituzionale. Sul personale sanitario, la sentenza 15, la successiva, è stata rimessa, come vedete, da vari tribunali in funzione del giudice del lavoro, addirittura Brescia ha mandato sette ordinanze di rimessione alla Corte equistituzionale, per cui, diciamo, rimessioni sproporzionate, penso che non conosciamo tante rimessioni di giudici di merito alla Corte equistituzionale per altre questioni, la successiva slide. Per quanto riguarda la 14, che era quella promossa dai giudici siciliani, riguardava uno studente di medicina che doveva fare la propria attività di pratica sanitaria nell'ambito degli vari istituti. Qui è interessante che la Corte equistituzionale, sia i giudici siciliani che la Corte equistituzionale, partono da una sentenza cardine, se andiamo alla successiva, della Corte stessa del 307 del 1990, che riguardava uno dei vaccini obbligatori. E lì, poi vi leggete, perché abbiamo poco tempo, siamo già alla fine. sulla bilancia ci sono da una parte il sacrificio del singolo e dall'altra parte il bene della collettività. Questi sono i due piatti della bilancia. Per cui, quella volta, nel 1990, la Corte ha detto che il singolo può essere obbligato se non ci sono effetti gravi, avversi, ma nella norma, però non si può sacrificare il singolo per tutelare la salute degli altri. Adesso non ho tempo per arrivare alla fine. In realtà, la Corte equistituzionale nel sentenza 14 invece dice, perché i giudici siciliani dicono secondo noi si può obbligare il singolo se questi effetti avversi sono un caso fortuito o occasionale, non se riguardano un numero sproposizzato di casi. Tant'è che nell'ordinanza di rimessione che vedete qua, prende il numero, le statistiche dei casi avversi dai report dell'AIFA per il medesimo anno per quanto riguarda gli altri vaccini e c'erano segnalazioni 17,9% ogni 100.000 dosi somministrate degli altri vaccini e poi segnalazioni gravi, cioè fatali, cioè di solito la morte, 1,9%. Poi va a prendere sempre dell'AIFA i report per quanto riguarda i vaccini Covid e invece lì 10 volte di più quasi perché le segnalazioni in generale sono 109 su 100.000 e gli effetti avversi su 100.000 abitanti sono i 17 su 100.000 per cui il decuplo dei vaccini normali. Allora si è chiesta, i giudici siciliani si sono chiesti ma dove diciamo il limite, cioè quanti possiamo sacrificare, no? Perché poi a livello europeo poi magari lasceremo le slide e vi guardate su 570 milioni di dosi ci sono stati 10.000 morti. Allora questo lo dice anche il giudice amministrativo della regione Sicilia e dice ma dove ci fermiamo? Cioè quanti sacrifichiamo? Quanti possono morire per salvare gli altri? In realtà poi se andiamo a vedere quello che ci dice la Corte Costituzionale ci dice no, possiamo anche sacrificare 10.000 persone se ne salviamo altri 100.000 o 200.000 o milioni di persone. Però parte sempre da quello che dicevo all'inizio da un presupposto errato perché pensa e afferma che in base alla scienza citando sempre l'AIFA cioè citano tutte le stesse fonti ma la Corte Costituzionale dice no, siccome col vaccino impedisco la morte di altri posso sacrificare anche 20 persone su 100.000 ecco così o 10.000 persone nell'ambito europeo ecco per cui questo è questo problema il libido di tollerabilità degli effetti avversi la coerenza dice la Corte tra il dato scientifico l'ira religione e la proporzionalità secondo la Corte Costituzionale la norma era proporzionale in base a questi parametri questo ve lo leggerete alla fine se arriviamo alla conclusione no una solo una le dico la Corte dice ci sono dei momenti in cui il legislatore deve fare delle scelte diciamo storiche pesanti e questo è un caso in cui deve scegliere tipo in guerra quante persone lascio morire o nel triage negli incidenti diciamo aerei devo decidere non posso curare tutti allora certi li lascio morire quella logica che c'è nella Corte Costituzionale è questa per cui è proporzionale è ragionevole lasciare molire alcuni perché col vaccino impedisco la morte di altri c'è diciamo uno spazio una via di uscita perché tutto il tempo la Corte Costituzionale dice comunque c'è l'indennizzo se c'è l'indennizzo stiamo tranquilli però dico se io muoio a parte l'indennizzo è limitato perché sono insomma limitate non guardano quanto guadagnerà Mitya Oswitz nella sua vita quanto con quei soldi studieranno i suoi figli eccetera è quel limite lì però diciamo che la Corte dà uno spiraglio e dice ma comunque c'è l'articolo 2043 del Codice Civile che se c'è stata qualche colpa nell'iter vaccinale che qualcuno non è stato attento nel vaccinare una persona che non doveva vaccinare poi comunque risponde ai sensi del 2043 per danni da vaccino per la differenza per cui concludendo partiamo da anche da diversi presupposti fattuali perché per certi il vaccino impedisce la trasmissione per altri no e anche dagli stati però principi costituzionali cioè quella sentenza del 1990 nonostante questo le conclusioni sono diverse cosa ha detto poi il Tribunale di Firenze ce lo dirà la collega Chiara Centrone molto bene ringrazio l'avvocato Osbic invece l'avvocato Chiara Centroni avvocato cassazionista con esperienza è stata giudice onorario presso il Tribunale di Gorizia per otto anni e ha vissuto in maniera decisamente attiva questa esperienza sia dall'ambito giuridico che nell'ambito anche in prima persona nell'ambito sociale la parola a Chiara Centrone buonasera a tutti grazie di essere intervenuti e grazie agli organizzatori dell'incontro per avermi invitata una premessa ritengo che questo sia un incontro molto importante e che presenti dei decisi risvolti di interesse pubblico perciò il mio intervento lo dico subito non presenta degli aspetti tecnicistici ma prettamente divulgativi il mio obiettivo è quello di tracciare un filo conduttore che consenta all'uditorio di comprendere quali sono stati i ragionamenti posti in essere dai giudici dei tribunali del nostro paese che hanno voluto prima sottoporre alcune questioni delicatissime all'attenzione della Corte Costituzionale sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e ovviamente occorreva svolgere una selezione perché le ordinanze di rimessione sono state diverse e successivamente far capire come questi ragionamenti sono stati poi portati avanti nel tempo anche dopo le pronunce della Corte che hanno rigettato le questioni che sono state avanzate ovvero le hanno dichiarate inammissibili questo ha comportato un aspetto per coloro che contiguamente stanno chiedendo tutele all'autorità giudiziaria positivo perché nonostante la Corte appunto abbia declinato in qualche modo le questioni questo consente ai giudici di rivedere la materia e quindi di non essere vincolati dalle sentenze che sono state pronunciate dalla Corte Costituzionale questa come premessa riguardo alla prima sentenza che io volevo analizzare per me è importante perché il giudice che ha rimesso la questione alla Corte cioè il Tribunale di Padova sezione lavoro ha evidenziato un aspetto che sotto il profilo della tecnica processuale è importante proprio per gli avvocati ed è quello del fatto notorio il Tribunale ordinario di Padova si doveva occupare di un caso concreto specifico che era quello di un dipendente di una fondazione che accoglieva soggetti disabili che presentava ricorso urgente perché voleva essere reintegrato in quanto non aveva presentato al datore di lavoro il Green Pass vaccinale e non aveva presentato esenzioni né differimenti vaccinali perciò era stato sospeso chiedeva di essere reintegrato e di avere delle tutele anche di tipo pecuniario ebbene in quel momento vigeva il decreto legge 44 che poi è stato convertito che stabiliva che come condizione essenziale ai fini dell'esercizio dell'attività uoi professionale in questo caso nell'espletamento delle mansioni lavorative fosse proprio necessaria l'esibizione di questo certificato e l'unica modalità per continuare a lavorare era quella di ottenere una valutazione di pericolo concreto per la salute del lavoratore stesso sulla base di condizioni cliniche accertate dal medico di medicina generale qui apro una breve parentesi un inciso che chiuderò immediatamente si poneva il problema giuridico piuttosto rilevante di stabilire a chi spettasse la competenza di svolgere questo accertamento di pericolosità per la salute atteso che il medico era chiamato solo ed esclusivamente a certificare le condizioni cliniche in essere quindi pareva che questa valutazione sulla pericolosità della situazione sanitaria del dipendente fosse demandato addirittura al datore di lavoro con quali competenze veramente lo ignoriamo andiamo avanti allora il tribunale ordinario di Padova davanti a questa situazione rimette la questione alla corte sulla base di due parametri che ritiene essere violati l'articolo 3 della costituzione sotto il profilo di ragionevolezza e l'articolo 32 sotto il profilo della libertà di autodeterminazione sanitaria autodeterminazione sanitaria significa che il cittadino può opporsi a trattamenti sanitari che reputa non essergli adeguati anche nel caso in cui dovesse questa astensione dal trattamento sanitario portare alle conseguenze più gravi addirittura letali per lui questa è una libertà che viene concessa la nostra costituzione si fonda su principi personalistici e ha una base liberale di conseguenza questo diritto viene tutelato dall'articolo 32 che vieta all'ordinamento di porre in essere dei trattamenti che le danno la dignità umana e la libertà di scelta della persona ora la razio della norma era quella di imporre il trattamento sanitario perché nello spirito della norma il trattamento sanitario doveva in qualche modo tutelare la collettività quindi nella misura in cui ci fosse un serio dubbio sulla idoneità di questo trattamento sanitario a tutelare l'interesse della collettività e quindi nel caso di specie a contenere o annullare il contagio dal virus SARS-CoV-2 a questo punto ovviamente mancando questo presupposto il trattamento sanitario non poteva essere più imposto per legge ricordiamoci che il decreto prevedeva dei trattamenti diversi a seconda di determinate categorie quindi i sanitari e il personale parasanitario e personale che a qualunque titolo fosse introdotto in strutture residenziali semiresidenziali e via discorrendo non poteva entrare al lavoro quindi non poteva accedere al lavoro se non con il Green Pass vaccinale quindi in questo caso non c'era nemmeno la possibilità di poter continuare a lavorare esibendo un tampone cosa dice il tribunale di Padova dice che questa norma è illegittima in quanto non raggiunge lo scopo che la norma stessa si prefigge in quanto viene considerato notorio il fatto che la persona sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri fatto notorio è un concetto giuridico importante perché consente al giudice di ritenere provato il fatto senza necessità di ulteriori elementi provatori che possono essere prove scientifiche consulenze tecniche e quant'altro e perché il giudice di Padova ritiene che possa qualificarsi come notorio questo dato in primo luogo perché analizza i dati che allora erano a sua disposizione la sentenza risale all'aprile scusate l'ordinanza non è una sentenza un'ordinanza risale all'aprile del 2022 e i report dell'istituto superiore di sanità già ponevano molti dubbi sull'efficacia dei vaccini inoltre inoltre trae l'argomento utilizzando una pubblicazione dal ministero della salute dal sito del ministero della salute che leggo testualmente dalla sentenza per evitare fraintendimenti dichiara tassativamente falsa quindi bolla come fake news l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino contro SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso amalarmi di covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri quindi già nel 2022 questo assunto che è stato propagato ovunque come una sorta di principio dogmatico scolpito nella pietra era stato smentito dallo stesso ministero quindi alla luce di ciò ritiene che sottrarre per lungo tempo la retribuzione al lavoratore e non attribuirgli nessuna misura compensatoria dal punto di vista pecuniario significa violare la sua dignità perciò rimette la questione alla corte allo stesso tempo non consente di ritenere in linea con l'articolo 32 della costituzione questo meccanismo normativo proprio perché sottrae priva al cittadino di questa libertà di autodeterminazione che non è più giustificata nella misura in cui il trattamento sanitario imposto non garantisce la tutela dell'interesse della collettività la corte costituzionale non ricepisce queste indicazioni perché ritiene che il anzi i bollettini il report dell'istituto superiore di sanità invece attestassero come il vaccino avesse questa attitudine a scongiurare la rapidissima propagazione del virus così la corte costituzionale poi però ci sono state altre pronunce sulle quali è bene soffermarsi quella che a me è sembrata più significativa è quella del tribunale dell'Aquila una pronuncia piuttosto recente che risale al settembre del 2023 e qui il tribunale dell'Aquila affronta il caso di un lavoratore ultra cinquantenne che domandava la condanna al datore di lavoro al restituzione per così dire delle retribuzioni che gli erano state sottratte durante il periodo della sospensione e quindi l'erogazione delle stesse e il risarcimento del danno anche il tribunale dell'Aquila si rifà al principio del fatto notorio cioè dice io do per assodato che questi farmaci non tutelano assolutamente né la salute di chi lì ne riceve la somministrazione ma neanche la salute degli altri quindi è ovvio che per questo motivo io concedo la tutela a chi me la chiede perché non c'è assolutamente alcuna distinzione tra lavoratore vaccinato e lavoratore non vaccinato quindi è ingiustificata la discriminazione che l'ordinamento pone non mi considero assolutamente vincolato dalle pronunce della Corte Costituzionale dalle quali mi discosto e la notorietà di questo dato che mi consente di arrivare a queste conclusioni in più la traggo da alcuni elementi sopravvenuti uno la dichiarazione dei vertici della Pfizer che uditi dinanzi al Parlamento europeo hanno affermato che il fine del prodotto in vendita era quello di contrastare gli effetti dannosi dell'infezione ma non il propagarsi del virus e c'è un'enorme differenza perché una cosa è la malattia altra cosa è la contaminazione cioè l'infezione e quindi la circolazione dell'agente patogeno che si attuava tramite i contatti interpersonali ora per stessa missione del CEO della Pfizer non i vaccini che avevano prodotto che avevano collocato sul mercato non erano assolutamente preposti a contenere l'infezione avevano tutta un'altra finalità poi fa un'altra operazione il giudice nella sentenza prende in considerazione proprio il foglietto illustrativo e qui rileggo testualmente perché anche qui vorrei evitare imprecisioni e il giudice ci dice riprova nel ragionamento che ho fatto prima che le indicazioni terapeutiche presenti nel foglio illustrativo dei vaccini in commercio quale il Comirnaty sviluppato dalla Pfizer non riportano quale effetto del vaccino quello di prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 bensì quello di limitarne gli effetti dannosi della malattia Covid-19 ma lo spirito della legge la razio della legge la finalità tutto ciò che è descritto nella rubrica degli articoli detta tutta un'altra finalità che appunto non è propriamente quella di evitare la malattia ma è quella di evitare l'infezione considera inattendibili forse appodittici richiami alle prese di posizione che invece venivano considerati di grande rilievo dalla Corte Costituzionale come autorità istituzionali nazionali ed europee preposte del settore veniamo all'ordinanza del Tribunale di Firenze quella che io ho selezionato è molto recente in vero è stata depositata il 20 novembre del 2023 qui il caso era quello di un'infermiera quindi un'infermiera che lamentava di essere stata illegittimamente sospesa e anche qui chiedeva ovviamente una tutela risarcitoria oltre che l'erogazione delle retribuzioni il Tribunale di Firenze ha il merito in questo caso di concedere tutela muovendo da un'altra disciplina che è quella della tutela contro le condotte discriminatorie in ambito lavorativo è contenuto in un decreto decreto legislativo 216 del 2003 che ha recepito una direttiva dell'Unione Europea l'articolo 2 descrive in maniera piuttosto dettagliata quali sono le condotte che vengono considerate discriminatorie all'interno dei luoghi di lavoro e abbiamo tre forme di discriminazione abbiamo una discriminazione diretta quando per religione convinzioni personali questo è molto importante convinzioni personali per handicap per età o per orientamento sessuale una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga poi abbiamo la discriminazione indiretta che si attua quando una disposizione quindi anche una disposizione di legge un criterio una prassi un atto un patto un comportamento apparentemente neutri possono mettere persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura o anche le persone portatrici di handicap o le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone inoltre viene indicato che anche il comportamento che integra molestia può essere configurabile come discriminatorio ovvero un comportamento indesiderato che può essere posto in essere per uno dei motivi sopraindicati aventi o lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio ostile degradante umiliante ed offensivo quindi sulla base di questa disciplina il giudice ordinario cosa fa disapplica e questa è una novità perché in questa materia fino ad ora non mi era ancora capitato di incontrare questa tecnica di risoluzione delle antinomie e in sostanza il giudice disapplica la norma non ha necessità di rimettere la questione alla corte costituzionale non ha necessità di rimettere la questione ai giudici sovraordinati ai giudici europei la disapplica direttamente perché in questo settore specifico cioè nel settore del lavoro è data questa possibilità da questo decreto e lo fa in ragione scrive il giudice dell'importanza di questa normativa antidiscriminatoria e della centralità dell'interesse protetto all'interno delle democrazie europee ossia la dignità della persona umana quindi ritiene altrettanto violata la carta di Nizza che ribadisce che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata si sofferma poi su un dato molto interessante il fatto che ci sono ovviamente delle eccezioni nella normativa cioè la normativa contiene una clausola di riserva che dice che ovviamente questa tutela non viene accordata nel caso in cui vi siano delle superiori ragioni di ordine pubblico di prevenzione dei reati e di tutela della salute allora si sofferma sulla questione perché ovviamente le parti sono entrate in contraddittorio su questo e quindi la parte resistente eccepiva che vi sono delle ragioni di tutela della salute che in realtà osterebbero alla disapplicazione della norma menzionata e qui la giudice si appiglia ad un altro dato che non è solo il notorio di cui vi ho parlato prima ma è il report dell'Inail e scrive che il report dell'Inail pubblicato il 31 agosto del 2022 attesta che i lavoratori della sanità tutti i vaccinati hanno la percentuale più alta di denunce per covid-19 tra tutti i lavoratori le denunce di infortunio sono del 63,2% del totale e dice anche una cosa interessante che nel settore nel settore sanitario è diventata una malattia tabellata la malattia tabellata significa che è una malattia che si è diffusa a tal punto che è stata già classificata come meritevole di ottenere un certo ristoro dal punto di vista patrimoniale e quindi c'è una diffusione molto molto alta molto elevata proprio tra coloro che indubbiamente si sono vaccinati perché altrimenti non avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività quindi nel settore sanitario che presenta tassi di soggetti vaccinati più alti in assoluto abbiamo una diffusione della malattia molto molto elevata e non attribuisce invece la medesima autorevolezza nel motivare la sua decisione a quei report dell'istituto superiore di sanità che invece erano stati considerati molto affidabili dalla corte costituzionale e anche dai giudici remittenti prima delle pronunce e ci dà una spiegazione del perché la considera inaffidabile e fa un riferimento proprio alla sorveglianza passiva e dice che i dati sono inficiati dal fatto che l'istituto superiore di sanità considera come effetti avversi ai vaccini soltanto quelli che sono stati denunciati da coloro che lo hanno fatto perché non c'è stato un monitoraggio attivo delle istituzioni sugli effetti avversi e quindi per questo motivo non considera i dati particolarmente attendibili oltre al fatto che gli stessi bollettini prendono in considerazione una finestra di rilevamento di soli 14 giorni per considerare inseribile nel database il dato che viene denunciato l'effetto avverso che viene denunciato quindi per questo motivo in sostanza il lavoratore ottiene dal giudice in questione l'accoglimento della domanda questo è molto importante perché nonostante le sentenze della Corte c'è la possibilità attraverso altre strade di riuscire a trovare un bilanciamento per così dire delle lesioni che si sono verificate a causa di provvedimenti che hanno sottratto la possibilità ai lavoratori che anche per me era esitazione vaccinale anche perché è dubbioso in relazione alla sicurezza dell'efficacia dei vaccini sono stati sospesi in quanto hanno manifestato una certa critica rispetto sia alla normativa che alla sottoposizione al trattamento sanitario i cui effetti sono ancora monitorati e probabilmente li scopriremo strada facendo io ho finito grazie molto bene siamo arrivati alla conclusione di questo convegno purtroppo i tempi non ci consentono di dare spazio alle domande ma penso che i contenuti che sono stati forniti oggi dagli ospiti abbiano quantomeno dato il via a un percorso di valutazione anche personale particolarmente importante e profondo ringrazio gli avvocati Ozbic l'avvocato Emersic l'avvocato Centrone l'avvocato Zenz ma soprattutto voglio ringraziare il comitato mutuo appoggio dei lavoratori radio tv perché si è dato veramente tanto tanto da fare e con grande impegno e direi anche un pizzico di sacrificio porta avanti un percorso per la conoscenza per capire e soprattutto per essere consapevoli grazie grazie a tutti grazie a tutti